Il 26 e 27 settembre si svolgerà ad Arco la quinta edizione della Castle Mountain Running, che farà da apripista ai campionati europei di mountain running che si svolgeranno ad Arco nel 2016. La Castle Mountain Running si svolgerà all'interno del castello di Arco, nelle vie del centro storico e sui sentieri dell'Olivaia e del Monte Colodri. Questa edizione segna il debutto del format Gundersen nel panorama della corsa in montagna, che consiste in due gare ed un'unica classifica. La gara 1 sarà una cronoscalata di 2,4 km e 200 m di dislivello da Piazzale Segantini al Castello, mentre la gara 2 sarà di inseguimento ed avrà un percorso di 7,430 m di dislivello, con partenza e arrivo in Piazzale Segantini. Sentiamo meglio i dettagli dalle parole di Franco Travaglia, presidente dell'associazione sportiva Garda Sports Events. A settembre ad Arco si svolgerà la quinta edizione della Castle Mountain Running, che voi organizzate appunto già da 5 anni, in previsione anche agli europei. La Gundersen International Race, ci puoi dire qualcosa di più? Sì, praticamente è una gara innovativa in campo mondiale, perché è una gara che non l'hanno mai fatto. e noi l'abbiamo concordata con la Federazione Italiana dell'Atletica Leggera, abbiamo detto, diciamo, andiamo avanti con il nostro format innovativo e vediamo di fare qualcosa di nuovo. Allora, pensavamo, abbiamo pensato a questa Gundersen, che praticamente sono due gare con una classifica unica. C'è la gara 1 con una cronoscalata al castello, nella quale gli atleti partiranno a cronometro, una alla volta chiaramente, e nel pomeriggio una gara di esinguimento, nella quale partirà prima il primo arrivato della gara 1 e a seguire col distacco accumulato tutti gli altri. Le gare si svolgono su due giorni, nel sabato 26, aperta a tutti gli atleti fidel, tutte le categorie, dal junior sino ai senior 80, maschili e femminili, sempre con la formula della gara 1 o gara 2. Invece la domenica è riservata ai migliori al mondo, stiamo già contattando, diciamo, il campione mondiale dell'anno scorso, il campione europeo di quest'anno e anche molti altri. E quella è una disfida, praticamente, proprio così, fra i migliori. E pensavamo di invitare non più di 35-40 atleti. Questo per noi è importante, anche per far vedere poi dopo agli atleti europei, far conoscere il percorso dell'anno prossimo. L'anno prossimo, come sapete, organizziamo i campionati europei assoluti, che per noi è veramente un grande orgoglio. Siamo veramente così molto stimolati, molto motivati in questo progetto, in questo obiettivo che noi ci eravamo prefissati già da alcuni anni. Questo format di corsa sta piacendo molto e lo stanno un po' copiando in giro per l'Europa e per il mondo. Qual è la particolarità di questo format, di questo nuovo tipo di corsa? Allora, la corsa in montagna, voi sapete che per Antonomasia è una specialità dell'atletica, diciamo, molto tradizionalista. Cioè, uno parte in una località X, prende il sentiero e arriva in una località Y. Evidentemente, in questo tragitto, nessuno lo vede, è una corsa contro se stesso, è una corsa che non può essere condivisa da nessuno. Noi, alcuni anni fa, abbiamo inventato questo tipo di corsa che è una corsa in montagna, perché i dislivelli ci sono in ogni caso, pertanto la difficoltà è uguale alla corsa normale, alla corsa in montagna normale, però è una corsa in montagna che tutti possono vedere. Tutti possono vedere sia dalla piazza, con il massi schermo come facciamo noi, oppure dagli spettatori che chiaramente in un circuito come il nostro possono in qualsiasi punto mettersi e, diciamo, applaudire e, come dire, emozionarsi per una gara che altrimenti non potrebbe essere vista da nessuno. E questa gara, questo format di gara, veramente sta piacendo a livello internazionale. Ce lo stanno copiando, ce lo stanno copiando in diversi posti del mondo, però questo a noi non fa altro che piacere, insomma, anche perché possiamo dire che siamo stati i primi a inventarlo. Grazie.